Indubbiamente il regista Johnny Toh da Hong Kong conosce il suo mestiere a meraviglia e lo ha dimostrato una volta di più con Vendetta in competizione qui a Cannes. 144 minuti veloci come il vento ed agili con un balletto dall'impeccabile coreografia per raccontare una vendetta. A Macau una famiglia composta da marito cinese e moglie francese con due bambini piccoli è stata massacrata da una gang prezzolata ed il padre di lei, Costello, parte da Parigi per vendicarla. Costello ha i magnifici occhi blu di Johnny Holiday e la sua bravura di attore consumato che qui in Vengeance presenta la perfezione. E Johnny Toh si sorpassa mescolando il regolamento di conti Hong Kong style con i neri al francese e chiamando Jeff Costello l'eroe venuto da occidente 40 anni più tardi del personaggio di Melville in Samurai. What's that sound? Each time you hear aloud. Grazie a tutti. Grazie.